Allora, era tantissimo tempo che non vi portavo Apex, come sapete l'abbiamo giocato per un bel po' in realtà, l'abbiamo portato per veramente diverse volte E oggi mi ritrovo qui a provare la nuova season di Apex, vado che è proprio uscita da poco la nuova stagione e quindi oggi la andiamo a sprollare insieme Apex è un gioco che a me piaceva veramente tanto e sapete che io ci avevo nerdato tantissimo A tal punto che farmavo ranked su ranked, eravamo arrivati pure Diamond in Diamond 3 mi sembra, in 5 giorni Perché mi piaceva veramente un botto e oggi andiamo a provare la nuova stagione Allora, pim pam pim pam pim Il tipo il teccher è uno sniper If I'm not wrong Vendiamoci questo, vendiamoci questo, vendiamoci questo C'è uno Oh my god Noccato Oh my god GG, 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 GG Tu easy Bel colpo, grazie mille, Radomo Ah, le botte a me facevo un botto Se si stancano il perk che si stava prima, mi facevo un botto Però l'area 45 diciamo che vorrei anche cambiarla Dobbiamo di cercare un'arma Andiamo qua, mi trovo qualcosa Questo mi serve, questo mi serve Ah, eccola Proviamola, raga Perché mi sembra veramente figa starma Non sembra per niente male La cosa che abbiamo di Apex è il tipo, cioè come ti muovi in game Hai una libertà devastante Penso sia la cosa che mi ha fatto proprio innamorare di Apex Quando l'ho giocato la prima volta Questo posto me lo ricordo Funi via, ora moriamo, guarda 3, 2, 1 Ragazzi non so se starma è veramente buona No, ok c'ho un merino dog shit proprio What? No, wait Oh Oh shit Pazzito Fuori di testa Reloading È normale caricare ci metto a 30 anni? Lelelele No por... Mannaggia Come ombra? Non ho paura di nessuno Io pure che però salgono da dietro Vabbè questa cosa è fortissima però Perché sei fermo mezz'ora? Però è forte eh Ah, mi sei potenziato pure l'armatura Sto curando Sto facendo uno shieldino Go 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 Dai l'ho knockato Let's fucking go Dai l'ho knockato Abbiamo il knock Vai 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 Ho preso in lock Ma mi dà una mano il tizio o no? Voglio fare il portale E andare da lui Giustamente abbiamo Ah pure lui? What? No vabbè raga No 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 Questa cosa... No vabbè Ok Anche lui può metterla Voglio il nutto del tizio Perché una... Guardiamo se... Andiamo da questa parte Ok Ma mi tengo sta roba Cos'è sta roba? Cos'è cos'è? No 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 Non so cosa sto facendo No 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 Non ho idea Non voglio provare neanche Addio Non so cosa sia Quindi non provo Perché se mi cecchierano Penso che... Arrivo brother Arrivo 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 bra Vediamo le porte Perché mi raccomando È importante Ho poche munizioni però La domanda è Non ho un mirino Per questa cosa ragazzi Questo è un grosso problema Posso mettere questo qui? Ok Molto meglio Non posso spiegare i munizioni Non ho veramente poca Siamo ancora in safe Quindi ok G-Man G-Man Sembra bravo Questo giocatore Che sta con noi comunque Prende sempre la gra Ricarico Ricarico Il fatto è che non voglio Sprecare i colpi Perché ne ho veramente pochi E ho neva 8 Con 0 perk Se mette la minigun Sarei felice E ora si campera 5 squadre Dai ragazzi Sono confidente Che possiamo vincere La Voglio poi le munizioni energetiche Dite che è worth ragazzi Perché ne ho veramente poca Però perdo l'aig Non mi va Chill dude Ah è bellissimo il tizio Raga Quello che sta con me Dico A me qualcuno Lì è ancora a bordo Ma mi fa strano Let's fucking go Io lo seguo Perché tanto è meglio Rimanere insieme Se no Qua rischiamo Di ripara Io le vado a prendere Le munizioni Perché ne ho veramente poca Le prendo perché sono poca Quanto dovrei salire Abbastanza in fretta Fantastico colleghi Sheila è pronta A entrare in azione Non riesco a fare il jump Da lì No Eccone uno Questa cosa è fortissima Ragazzi Oh Morto Vieni qua frato Anch'ero diamond Anch'ero diamond Ti assicuro che la mira Non mi manca La scopra Mio 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 Ah Avendo questa Me la full E sono full Yolo Ok Purtroppo Non ho nessun perk Per il pompa Ah no C'ho questo Ci sono altre munizioni Seguo lui Voglio stare vicino a lui Allora a questo punto Io copro l'altra entrata Ma qua c'è la finestra Rip C'è una qua sotto Il fatto è che ora Che busciamo So io come Faccio un tp E' l'unica Ok 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 Lo so l'ho visto L'ho visto Last squad Ragazzi Vado se la winiamo Vado se la winiamo Vado se la winiamo La nocco Noccato Let's go Mamma mia Alla prima GG Mamma mia Siete i campioni Apex GG Vabbè La prima partita Ragazzi Non contavo Ma